Un fine luglio ed un inizio agosto drammatico sulle strade della provincia di Arezzo. Sette le persone che hanno perso la vita in tragici schianti in appena 16 giorni. Un'ottantina invece gli incidenti stradali che hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 in poco più di due mesi. Gli ultimi due schianti fatali si sono consumati lo scorso fine settimana a 24 ore di distanza l'uno dall'altro lungo l'autostrada del Sole. Le statistiche pubblicate a fine luglio 2018 relativo all'anno 2017 ci indicano che ogni giorno ci sono incidenti stradali rilevati dalle forze dell'ordine, feriti e purtroppo decessi. Ovviamente nel periodo estivo questi numeri soprattutto nel mese di agosto si vedono aumentati perché comunque aumenta il numero di veicoli che circolano, aumenta l'intensità, la lunghezza, la distanza chilometrica che viene percorsa e poi comunque anche il caldo influisce a livello psicologico sull'autista e quindi si riduce l'attenzione e di conseguenza aumenta il rischio di incidente stradale. E' contante le persone che si metteranno in viaggio nei prossimi giorni. Quali sono i consigli da seguire per una maggior sicurezza stradale? Il primo posto è sicuramente l'attenzione. Purtroppo oggi viaggiamo in auto facendo tante cose e prestando poca attenzione invece alla conduzione del veicolo. Il telefonino è la prima causa dell'incidente stradale. Un controllo del veicolo, quindi essere sicuri che il veicolo sia efficiente e poi un posizionamento corretto alla guida che è determinante. Molti trascurano l'importanza di posizionarsi sul veicolo in modo corretto. Questo cambia totalmente la sicurezza che ha chi viaggia a bordo. E di sicurezza si continuerà a parlare anche all'interno di Strassicura Park, la cittadella a retina per la sicurezza stradale di Castiglion Fiorentino. A settembre partiranno tutta una serie di progetti e di iniziative, in particolare corsi di guida sicura, rivolti a tutti. Dal giovane a chi è convinto di saper guidare e sostiene che dopo 30 anni di patente non ne abbia bisogno, ma in realtà un refresh non fa male a nessuno.